Prosegue apparentemente senza intoppi la conoscenza tra Shai la gatta e Javier Martinet nella casa del grande fratello. L'ex velina, dopo un iniziale tentennamento, ha rotto gli indugi, e adesso i due sono sempre più vicini. Lo dimostra anche una confessione fatta dalla ballerina Alenonella Rai a proposito di quanto accaduto con Javier durante la notte. Una confidenza che ha costretto la regia ad intervenire e a far scattare la censura. Sai cosa mi piace di Javier? Che è riservato, ha detto Shai la alle amiche conosciute nella casa. Quando Pamela Petrarolo le ha chiesto di approfondire, la ballerina ha precisato. Io sono uscita mamma, tu non hai idea. La regia, a quel punto, si è vista costretta a togliere l'audio per evitare che troppi dettagli fossero condivisi con i telespettatori durante la fascia protetta. Shaila si espone sul rapporto con Javier. Mi sento una ragazzina. Sono entrata qua pensando di essere un ghiacciolo, invece mi rendo conto che giorno dopo giorno mi piace sempre di più. Mi fa stare bene, non mi sento giudicata, mi dice sempre cose belle. Ieri mi ha detto certe cose all'orecchio, mi piace tutto di te, sei perfetta. Mi piace come ti vesti, anche con il pigiama, senza trucco. Sei bella, mi fa impazzire. Non vorrei volare così alto, ma non vedo l'ora di portarti a mangiare una cosa fuori, a portarti sul mare. Poi, Shaila ha aggiunto. Quando ci abbracciamo sembra di fare l'amore, sentiamo delle cose. Io gli ho detto a una certa devi stare calmo, parliamo, facciamo cose. E, super passionale. Mi piace lui come fa le cose, mi piace come mi fa stare. Il fatto della bellezza si, c'è, ma è proprio come mi fa stare, come mi accoglie ed ascolta.